Le due principali banche italiane detengono la maggioranza assoluta di Banca d'Italia, quindi significa che i due gruppi, i due colossi italiani sono in grado di determinare la politica non solo di indirizzo ma anche di vigilanza di Banca d'Italia, questo è un fatto. Io però vorrei volare un po' più basso e riagganciarmi al discorso, al filmato che abbiamo appena visto per usare lo stesso tempo di Mariano ma dire quattro concetti di stile. No, noi non abbiamo una par condizione. Anzi hai un ruolo che ti spetta in uno spazio maggiore visto che sei dalla parte dei risparmiatori. Dunque, per intanto questo filmato spiega una cosa, qual è la logica delle banche. La logica delle banche si può riacchiudere in un aforismo, scusatemi, i soldi bisogna prenderli ai poveri, ne hanno pochi ma sono tanti e questa è la logica. Ed ecco perché le operazioni più ardite riguardano i risparmi, riguardano la casa, riguardano i conti correnti, cioè tutto quello che riguarda noi, nel caso dell'Italia è 60 milioni di cittadini italiani. Quindi non si va, ora lasciamo stare le imprese, sono discorsi già un attimino più complicati, dove magari si possono avere anche degli interlocutori in grado di avere anche una forza contrattuale, volendo, ovviamente esistesse un mercato in Italia e io ritengo che non esista. Però, stiando ai cittadini, la logica è questa, ti metto le mani in tasca in qualunque cosa tu debba fare. Quest'altro filmato poi spiega con una sapiente e accattivante logica espositiva un altro concetto, che il sistema adottato dalle banche per creare ricchezza non è niente di diverso da una moderna ridizione della catena di Sant'Antonio. Pago gli interessi al secondo cliente con una parte dei soldi del primo e così via. Solo che mentre nella catena di Sant'Antonio ad un certo punto la catena si spezza e il cerino rimane normalmente in mano a tanti eredi della catena, ma soprattutto a chi poi lo ha creato, che o scappa nei paradisi tropicali oppure viene arrestato, abbiamo vissuto in tempi neanche troppo lontani esperienze di questo genere. Per le banche invece si trova sempre il sistema di riversare sulle tasche dei cittadini i costi di una gestione che non è portata a criteri di profitto in senso positivo, come vorrebbe un capitalismo moderno e delle regole, ma in senso di... Infatti è bellissimo quella scenetta di quell'intervista di quello spagnolo, quando dice che si pagano delle commissione per la tenuta del conto, e che fa quello, lo lucido, il conto, dietro pulissimo. Lucida le monete come Paperon dei Paperoni. Abbiamo una babysitter, devo pagare questa lucidatura delle monete. Vabbè, se vuoi intervenire subito dopo ho quest'altro filmato, più modo da non esaurire subito, perché mi piace invece dare delle risposte brevi per ogni stimolo che in qualche modo abbiamo cercato di dare. C'è anche troppo da dire. Allora, nel prossimo filmato si parla dei mutui, a cui accedono la maggior parte delle persone per comprarsi una casa, per comprarsi dei mobili, per farsi una vacanza, eccetera. Vediamolo, c'è sempre quel famoso pensionato bancario che fa le riflessioni in pensione. Vediamo in realtà cosa accade quando noi ci richiamo presso un istituto di credito per accendere un mutuo, supponiamo per acquistare un immobile. L'istituto di credito, dopo aver ipotecato l'immobile a suo favore, ti fa firmare un contratto e ti rilascia un assegno dell'importo necessario per l'acquisizione dell'immobile in oggetto. Questo persino di credito ha detto assegno, noi lo consegniamo al nostro promittente venditore, il quale lo depositerà sul suo conto corrente. Non c'è stato il transito di una sola moneta. Il fatto è che la banca in realtà non ha neanche nelle proprie casse il denaro che ti presta. Perché in base al trattato di Basilea, le banche possono prestare fino a 50 volte ciò che hanno. Praticamente loro ci hanno prestato denaro virtuale, loro hanno creato denaro virtuale, in quel pezzettino di carta, quel pezzettino di carta è una promessa, cioè io pagherò a chi si presenterà con questo pezzettino di carta la somma in questione. Ma in realtà questo pezzettino di carta si versa in un'altra banca, perché nessuno va a chiedere i soldi di contanti. E questo le banche l'hanno capito, infatti le banche lavorano sui grandi numeri, loro sanno benissimo che soltanto il 2% del capitale in loro deposito viene richiesto per contanti e loro tranquillamente prestano 50 volte il resto. L'altro 98% lo prestano 50 volte. Come posso io prestare ciò che non ho? Ebbene, questo alle banche viene consentito. Ebbene, anche poi proporre qualcosa di costruttivo. E visto che le banche prestano 50 volte quello che hanno, io proporrei per inutui accesi di rivedere i conteggi e di restituire sì tutta la cifra alla banca nei tempi concordati, ma gravata dell'interesse del solo il 2%, perché il 2% è realmente la cifra in possesso delle banche. Il 2% è quello che realmente loro avrebbero potuto prestarci. E qui non ti voglio riconoscere l'interesse su questo 2% per il tempo di durata del mutuo, ma sull'altro 98% io ti restituisco la somma e non ti voglio riconoscere nessun interesse. Cominciamo questa volta da Massimo. Allora, il 2% ti sembra possibile che possa essere proposto questo tipo di interesse alla banca? Che ti ha fatto il mutuo? In realtà questo signore fa un discorso più complicato. Lui parte da un altro ragionamento che è tecnicamente corretto. In realtà ti sto facendo pagare il costo di un denaro su una cifra che non ti ho mai erogato. Quindi dovresti pagarmi l'interesse su quello che è il denaro che io veramente vado a procurarmi poi sul mercato e che pago. E su quello dovrei guadagnare il famoso spread, come vogliamo chiamarlo, secondo il grado. Sì, perché tu non mi stai dando monete, mi stai dando una cartuccella, un assegno, che poi il venditore verserà sul suo conto. E il virtuale. E su questo io ho esaminato una serie di contratti, ad esempio non tanto per i contratti di mutuo dove ci sono una serie di problematiche, però pensiamo per esempio ai contratti di finanziamento. Gli uffici pubblici sono pieni di contratti di prestiti personali, cessione del quinto, roba varia. Se voi andate a risaminare quei contratti, hanno una logica che va smontata, che va denunciata nei tribunali. perché se io chiedo 10 mila euro in prestito, loro in realtà mi danno un prestito virtuale di 20 mila euro, ma metteranno in mano sempre 10 mila euro. Gli altri 10 mila, quindi per arrivare ai famosi 20 mila, sono per circa un terzo spese di approvvigionamento denaro. In più di un'occasione io ho scritto a queste finanziarie dicendo scusatemi, ditemi dove l'avete comprato a così caro prezzo questo denaro, perché forse vi posso aiutare io a comprarlo a meno. Quindi gli interessi vengono poi pagati sull'intera somma, su questi virtuali 20 mila euro che non sono mai stati erogati. Ecco come si creano dei meccanismi farlocchi di indebitamento, dei meccanismi fasulli, che vanno presi, smontati e denunciati, senza pietà, perché l'interesse, facciamo discorsi etici se sia corretto o non corretto pagare, ma diciamo che in una logica di esercizio di impresa la banca ha una remunerazione che deriva anche dall'interesse, deve essere pagato sulle somme effettivamente erogate. Posso dire un'altra cosa prima che mi tolga la parola? Il vero problema in Italia è un problema normativo. Noi abbiamo delle leggi che in apparenza sembrerebbero tutelare i cittadini e in realtà non lo fanno. Ad esempio, la legge sull'usura prevede un meccanismo molto semplice che è usura, si determina il tasso usuraio sulla base della differenza tra il denaro che ti presto e quello che mi devi restituire, tolte tasse imposte. ci sono poi delle circolari invece di Banca d'Italia che comunque è un organo di vigilanza non fa leggi fa regolamenti quindi norma secondaria se vogliamo ragionare da giuristi che invece consentono o perlomeno non ritengono usurarie quel tipo di operazioni che ho descritto prima. Ti fermo Massimo perché devo dare la pubblicità ancora prima di dare la parola a Mariano per dopo.